Io sono Gerardo Ortalli, sono professore di storia all'Università di Venezia e faccio parte della Fondazione Benetton Studi Ricerche, che è una fondazione che fra le altre cose si occupa specificamente di gioco e di storia del gioco, con una serie di pubblicazioni, di ricerche, di indagini, di iniziative, di convegni. È una fondazione nata da 25 anni, abbiamo una serie di pubblicazioni decisamente importanti. Il nostro rapporto con Tocca T è un rapporto non recentissimo come curiosità, molto recente invece come collaborazione. Che senso ha? Per noi ha senso dare un apporto di carattere scientifico, perché la nostra funzione di ricerca ha un'iniziativa così diffusa, così popolare, così abitata e al tempo stesso essere un punto di riferimento di livello culturale molto alto per quello che può servire al Tocca T. Questa è in sostanza la nostra funzione, il nostro legame con Tocca T.